Salve, mi chiamo Nicola Ventura, vengo da Cerigno, la provincia di Foggia, lavoro in una pizzeria che si chiama Giro Pizza. Faccio questo mestiere da 9 anni. Ho usato un impasto di tipo farina di tipo zero, 72 euro di lievitazione, temperatura controllata, 4 gradi, 2 euro a temperatura ambiente prima di... La forza della farina? Una farina media, 260. Hai detto che è un impasto diretto? Sì, diretto, 72 euro di lievitazione. E il lievito? Fresco. Percentuale? Percentuale 0,1%. E il sale invece? Il sale 2,5%. E l'idratazione? 60%. Dici cosa ci hai messo, capra? Sì, sopra ci ho messo della mozzarella, del pomodorino, datterino giallo, poi ci ho messo filetti di baccalà marinato, con della crema di pave, prezzemolo e... Quella cosa croccante? Eh sì, ai crostini di pane. Sì, scusate. L'emozione. Giocabuti scherzi. Nicola, per quanto riguarda l'impasto, perché l'1% di lievitazione, 0,1% di lievito. Posso fartela come domanda? Sì, me lo puoi fare. Perché, essendo una lunga lievitazione, a 72 euro, ho preferito mettere solamente un grammo a chilo di farina. E questo, secondo te, dà la possibilità di far avvenire quei 3.000 processi che poi portano alla lievitazione, alla maturazione dell'impasto? Per me sì. È un po' poco. No, per me... Sì. Che temperatura hai tirato fuori l'impasto dall'impastatrice? 25 gradi. 25 gradi. Va bene, grazie.